Grazie Grazie alla vita che mi ha dato tante cose belle tra cui la musica ed è per questo che mi sento di ringraziare la famiglia Castagnari, i costruttori di questi strumenti che io definisco gioielli sonori perché costruiti con attenzione. E' una storia bella che andava scritta la loro e qualcuno l'ha scritta e io ringrazio anche chi ha pensato di raccontarci la storia di questa famiglia di artisti e artigiani. Grazie. Grazie.